In questo breve tempo a disposizione per tutto Libri, vorrei far tesoro della sua presenza per cercare di comprendere qual è l'opinione del giornalismo, soprattutto di un giornalista come lei. Alla fine qual è la vostra opinione? I 74 anni di Silvio Berlusconi, comunque ben portati, pesano a questo punto e soprattutto è una certa furbizia politica, quella della svolta, come vogliamo dire, Finiana, forse un po' più verso il centro, in pratica sta strizzando l'occhio al futuro Fini, cosa ne dice lei? Fini sta strizzando, come ha sempre fatto per l'intera sua vita, sta strizzando l'occhio a se stesso, Fini è una persona che si sveglia il mattino, si guarda allo specchio e si fa i complimenti. Fini non ha alcun disegno strategico, ha dei disegni tattici, il primo oggi è fare cadere il Cavaliere e poi chi vivrà, vedrà con Casini, con Montezemolo, le famose tecnocrazie. Il Cavaliere ha parlato con Don Verzee, Don Verzee che è il patron dell'ospedale San Raffaele, il quale gli ha garantito che vivrà 120 anni, quindi non ci sono problemi, il Cavaliere ha i decenni contati, vivrà fino a 120 anni e sarà giovane fino allora. Certo che la situazione che sta affrontando in questi mesi non è delle più semplici. In questo momento, non so se l'ho incautamente interrotto, Fini è la vera alternativa, alla fine dei conti si vede addirittura una commedia degli equivoci, perché tante volte si sente addirittura la sinistra proporre un uomo di destra. Siamo alla commedia degli equivoci, alla discrasia, alla distorsione della realtà più totale. Se mi permette anche una domanda, gliela posso fare io, ma lei ritiene che Fini sia un uomo di destra? Beh, devo dire la verità, lo ritenevo una persona di destra, poi ho visto che è anche un uomo di metamorfosi, se vogliamo dire così. Sì, ne ha fatte molte di metamorfosi durante… Ma cosa è che gli sta stretto alla destra, attuale, rappresentata da Fini? A Fini gli sta stretto il partito, finalmente se ne è potuto liberare e può pensare alla propria carriera personale. Si racconta che nelle settimane che hanno preceduto la nascita del PDL, siamo nel 2009, gli allora colonnelli di Fini gli avessero suggerito di non confluire nel partito unico, ma di continuare a ottenere una specie di federazione, come era stata fino allora, una specie di federazione fra Forza Italia e l'allora Alleanza Nazionale. E fu Fini a insistere per l'ingresso nel partito unico e per lo scioglimento immediato sui due piedi di Alleanza Nazionale, che fece senza consultare nessuno, lui che oggi chiede maggiore democrazia all'interno del PDL, ma proprio perché così si era finalmente liberato del partito che rappresentava un insopprimibile peso per i suoi disegni personali. E in pratica sta ventilando, anzi sta dicendo chiaramente che Fini rappresenta nient'altro che se stesso. E' certo, è quello sempre rappresentato. Beh sì, effettivamente, ora magari stiamo portando una critica molto avanzata, soprattutto agli ammiratori di Fini, però in questo… Noi esistono, lei è convinto che ci siano gli ammiratori di Fini? Beh, devo dire la verità, in questo momento mi risulta che ci sia qualcuno persino a sinistra, il che mi sembra una singolarità di valore assoluto. A sinistra sono convinto, ammiratori credo oggi ne abbia molti, infatti Giano Accame, che fu un grande protagonista della destra italiana, diceva che Fini leggeva il giornale la mattina per sapere cosa pensare il pomeriggio. E Fisichella, quando se ne andò, Domenico Fisichella, uno dei fondatori, quando se ne andò, sbattendo la porta alleanza nazionale, poi finire malamente la Margherita, disse che Fini era un grandissimo comunicatore di idee altrui. e vorrei sapere quali sono oggi le sue idee. Io vorrei sapere anche in termini di trasmissione qual è la sua idea, lei ha accennato al ciclone, ecco come veniva definito, e parlo di Tangentopoli, di Pietro e Del Pietro, il suo editore, il suo direttore di Pietro e la bestia nera di Del Pietro, dobbiamo dire la verità, sempre e costantemente criticato e durante le talk show televisivi da carattere nazionale si sono sempre scontrati. Direi che Di Pietro è la bestia nera di chiunque abbia cuore, tanto per cominciare la sintassi e la grammatica italiana, italiane con le quali Di Pietro non ha mai smesso di litigare. Anche dietro ciò non si può intravedere una certa schiettezza, una certa provenienza dalle file del popolo più semplice, ricordiamo che lui è stato prima un muratore e poi ha fatto... Peccato che non abbia continuato questa carriera. Beh sì certo, questa è un'opinione, però c'è qualcuno che ci crede pure in Di Pietro, essenzialmente ai più semplici appare come una persona onesta, come una delle poche persone oneste in questo paese di politici, dove ricordiamo 500 mila persone... Per carità, non voglio prendere querele, né desidero che la sua emittente prenda querele, quindi non prendiamo questa strada, non prendiamo questa strada sulle stadi di Pietro che potrebbe portarci su terreni molto accidentati. Cambiamo velocemente via. Per tornare a quello che lei propone con questa sua ultima opera, devo anche ricordare che non è certamente la prima, lei ha la sua quarta opera. Tre opere sono state edite precedentemente da altri editori, due in particolare da un editore di grande prestigio, Rizzoli, questo dal nostro grande editore abruzzese Marco Solfanelli. E' certo, che è molto simpatico. E' anche una persona molto simpatica di spirito, è anche una persona molto impegnata e animatore e collaboratore anche di tanti altri nostri programmi. La svolgnota l'ho fatta. Ma un libro come questo, pubblicato da un editore convenzionale, perché quegli altri libri a cui lei fa riferimento erano romanzi. Mentre questo qui ha un'impronta saggistica, insomma è un pamphlet, un libro di invettive, un libro sull'attualità. Lei immagina che la grande editoria allineata al pensiero unico di sinistra potesse pubblicare un libro come Sconcerto Italiano. Ci vuole un uomo di coraggio assoluto come Marco Solfanelli. Con questo abbiamo anche servito Rizzoli, presumo. No, 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 Rizzoli fa benissimo il suo mestiere, per carità. Allora, signor Besana, io nel farle tanti auguri per questa sua pubblicazione, vorrei anche consigliarla a quanti si accingono, speriamo, a prendere un momento di pausa ed è importante anche avere nella pausa stessa un po' di riflessione con questo libro di cui vorrei che lei ricordasse il titolo. Sconcerto Italiano, diario di un paese impossibile, il nostro. Il nostro paese è un paese impossibile? Speriamo che diventi un paese possibile e non un'utopia come un altro libro che abbiamo presentato recentemente. Io devo ringraziare il giornalista Besana di essere stato oggi con noi, vi devo augurare buon rientro a Milano e soprattutto grazie a voi telespettatori per averci fatto dono della vostra cortese attenzione fino a questo punto. Come sempre faccio in ogni termine di trasmissione, vi ricordo che TRSP Radio Televisione trasmette in tutta Italia su Sky 886, in tutta Europa, Medio Oriente e Nord Africa su Hotbird e in tutto il mondo di streaming, nonché su alcuni segnali locali a livello sia digitale che analogico, ma soprattutto ricordate, la nostra forza siete voi, dateci forza. Ci vediamo ancora una volta mercoledì prossimo e grazie ancora al giornalista Besana. Grazie a lei.